Cosa bisogna fare in caso di ritardo prolungato del volo, di negato imbarco, cancellazione oppure se viene smarrito il bagaglio? La carta dei diritti del passeggero risponde a questi e a molti altri interrogativi. Altrettanto prezioso è il parere di un esperto come l'avvocato Edno Gargano, il quale all'indomani della cancellazione imprevista del volo Ryanair Pescara Catania in partenza dall'aeroporto d'Abruzzo ci spiega cosa hanno diritto i passeggeri per i disagi subiti. In questi casi si applica la carta dei diritti del passeggero e dobbiamo distinguere due ipotesi, quella della cancellazione per cause di forza maggiore come lo è per esempio una appunto eccezionale nevicata o l'eruzione di un vulcano e i casi in cui non c'è una causa di forza maggiore. Quello che è successo ieri a Pescara con ogni probabilità è un caso non di circostanza eccezionale, dunque i passeggeri avranno diritto a richiedere alla compagnia aerea la cosiddetta compensazione pecuniaria che è una cifra di denaro che va da 250 a 600 euro a seconda della tratta. Nella tratta Pescara Catania compresa 1500 chilometri sarà di 250 euro. Inoltre i passeggeri hanno diritto alla cosiddetta assistenza ovvero la fornitura di pasti e bevande in congruità con l'attesa. L'assistenza prevede nel caso in cui il primo volo disponibile fosse per l'indomani anche adeguata sistemazione in hotel e il transfer da e per l'hotel. All'aeroporto d'Abruzzo e negli altri scali italiani sono frequenti questi ritardi e cancellazioni dei voli? Sono più frequenti i ritardi e approfittiamo per dire che il medesimo risarcimento spetta i passeggeri il cui volo abbia subito almeno tre ore di ritardo. I dati sono abbastanza tranquilli per l'aeroporto d'Abruzzo perché quest'estate effettivamente tranne qualche ritardo non ci sono state delle grosse cancellazioni. Certo che se invece parliamo dell'intero Stato i dati crescono vertiginosamente. Il problema spesso sono gli scioperi perché poi in conseguenza degli scioperi anche se fatti in altre parti dell'Europa poi diciamo a effetto domino si vanno ad accumulare tanti ritardi anche in tutti gli altri aeroporti italiani. Gli utenti oggi rispetto al passato sono maggiormente informati sui loro diritti? Sono circa 15 anni che mi occupo di diritto dei passeggeri e devo dire che negli ultimi 15 anni la consapevolezza finalmente comincia ad aumentare perché c'è una buona divulgazione di quella che è la carta dei diritti del passeggero soprattutto anche all'interno degli aeroporti, nell'aeroporto di Pescara anche, assolutamente. Grazie.